I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Agropoli hanno tratto in arresto un 68enne indagato nell'ambito dell'indagine riguardante la truffa della cosiddetta bene emissione. Il modus operandi era semplice, venivano contattati i proprietari di beni di lusso intenzionati a venderli tramite annunci pubblicizzati su siti internet. Successivamente i truffatori si recavano all'appuntamento muniti di assegno circolare falso e recatisi in banca per l'incasso facevano contattare l'istituto di credito emittente per verificarne la genuinità. A questo punto la chiamata in entrata sulla linea telefonica dell'istituto bancario veniva intercettata e deviata su altra utenza, da cui rispondeva un complice che presentatosi falsamente quale dipendente della banca confermava la congruità dei titoli di credito falsamente emessi. Svariati assegni dall'importo da 7.000 a 75.000 euro venivano utilizzati per la compravendita di autovetture, imbarcazioni, orologi di valore, il più delle volte pubblicizzati sui siti di compravendita che venivano così sottratti alle vittime inconsce dell'accaduto. Al passaggio di proprietà i truffatori presentavano con documenti falsi così da intestare il bene a persone inesistenti per poi darsi alla fuga senza lasciare alcun elemento. Il ruolo dell'indagato arrestato, ex dipendente Telecom, era quello di individuare le cabine di deriviazione relative alle linee telefoniche delle banche falsamente emittenti i titoli di credito e di installarvi un'apparecchiatura sofisticata finalizzata alla capdazione e alla deviazione delle chiamate in entrata. L'indagine condotta dai carabinieri di Agropoli ha riguardato complessivamente 14 episodi in diverse parti d'Italia relativi a truffe perfezionate con assegni circolari falsi apparentemente emessi da istituti di credito dell'intero territorio cilentano, Agropoli, Castellabate e Matinella, per un valore complessivo di circa 500 mila euro. Nel corso delle indagini è stato possibile acquisire i filmati della troupe televisiva della trasmissione Le Iene che aveva realizzato un servizio andato in onda il 24 novembre 2019 sulle truffe dei Rolex.